Rivedere Denis Godeas con l'alabarda al petto, magari una tuta da allenatore per un settore giovanile, è un'idea che ti sei fatto tu? No, pensavo da giocatore, no, a parte gli scherzi, vorrei provare a fare allenatore e vedere se ho le capacità per farlo, perché dire di fare allenatore e farlo realmente e riuscire a trasmettere quello che magari ho imparato io in una carriera a dei ragazzi, magari più giovani, non è una cosa così automatica, quindi bisogna vedere se ho le reali capacità per poterlo fare e poi chissà, è chiaro che mi piacerebbe, comunque io a Trieste ci sono sempre, sarebbe un regalo in più che mi potrebbe succedere, però non è una cosa immediata, nel senso vediamo, sono in corso dopo, io sto cercando di fare esperienze, cercare di capire se ho realmente la bravura per poter gestire una cosa del genere e poi si vedrà, è chiaro che rimango comunque un tifoso come tutti gli altri e la seguo a prescindere, poi se dovesse avere anche la fortuna di poter lavorare dal di dentro sarei sicuramente felice. Da giocatore non più ormai? Ma non credo, non so, se volete un anziano in campo, però no, da giocatore ormai sono già, io sono stato veramente fortunatissimo perché gli ultimi anni sono stato un regalo in più che mi sono fatto e lo faccio con passione, mi diverto, però è normale che per quello che è il calcio, come lo intendo io, godi a quello vero, insomma è già da un po' che ha smesso. Adesso è una fortuna che ho avuto e sono anni in più che mi sono regalato io, però è più che altro perché cerco di fare questo adesso unendo altre cose, insomma il calcio secondo me, sono stato già fortunato a dare tanto e ad avere tanto dal calcio, adesso cerco di fare altro.